Per Romagnoli, poi l'orsato prolunga il reticolo di due minuti da 5 a 7 e sulla spittata di Bacca arriva il gol di Zapata il gol online technology assegna il 2 a 2 al Milan finisce così con i gol di due difensori centrali il Milan che ci fa il pari nel retro come l'Inter alla città